La redenzione degli sleali, l'ultima gita, in una casa del centro storico, forse infestata dagli spiriti. Andiamo a vedere. Andiamo. Vai con le donne sul letto. No, 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 io sono la sessuale. Quando prenderemo ora? A buscata e le cifre la buscata. Sto pisciando sotto. Andrea. Vai. Ti fai a pipì? No, ma spesso. Ma lei immagina il gioco, non si tiene luce e dice che c'è la buscata. No, cioè se c'è la buscata. No, ma lei mi vuole, 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 ma vede, che cosa, no? Mamma mia! No, mi emoziono il capo. Tipo quando uno atterrà all'aereo oppure sta volando. Avete presente, la natura è emigliata, lei. Tu sì, consiglio. Ma le posso mettere a mano, sicuro che... Mamma mia, attenzione. Per la finale dello Sleality Show, pensiamo, abbiamo Francesco Aurioso, Andrea Calestini, Michele Di Nola, Claudia Bruna e Roberta Quattrocore. Allora prepariamo subito le domande. Buonocore. Sì. È giusto? Allora iniziamo con le domande. Mi raccomando, mano al pulsante, la voglio sapere. La data della scoperta dell'America. Noi, 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 no. No, 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 no. Noi, no, 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 no. Noi. Noi. Io. Le due bionde, allora, buonocore. No, 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 no. Rispondiamo a noi, 1492. 4 settembre, 1492. 1492. 4 settembre, 1492. E lui ci ha messo già nel mese. Abbiamo vinto. No, noi ne abbiamo detto. Alle ore 14.30. Ma la risposta esatta, mi date conferma. La risposta esatta, un punto per me. Proseguiamo il nostro show. Ciao mamma, ciao papà. Ciao zia, ciao nonna, ciao zio, ciao zia, ciao cugino, ciao. Fru. Bisnanno? In quale anno c'è stata l'unità d'Italia? Palestini di Nola 1860 No! 61 Ancora un altro punto Per la Bruna e la Buona Cora Ma noi stiamo vincendo, no? Quindi dovrebbero fare i pegni Quindi dovreste pagare due pegni Due pegni, stiamo a due pegni Ma va bene, vinti evo Li pagano adesso i pegni? No, sì, sì Allora Che pegni noi facciamo farci con Zubbiamo Cazzo, aiuto, cazzo Ma quanto siete cretiti Ma perché vi dovete far urlare? E io mi asistenti Ma che succede? Non so, sei arrivato a te Ai, ai, ai Ma perché sei là? Ai, 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 che colombi Io stavo là Ma dai, io stavo qua, posso dire? Ma che cosa mi pesa? Mi c'è lo stesso? Io sono arrivato qua perché volevo dormire Aspetta, che rama? Ah, voi dovete fare due pegni? Due pegni Eh, stavamo tre o due per noi No, no, tre o zero Due a zero Aspetta Maestro, siamo pronti Allora dobbiamo far pagare i pegni? Quattro pegni Quattro pegni? Eh, sono... Ma tu, chi? Ecco, ma... Allora avete 30 secondi per scambiarvi le mutande Che tanto fa se me le tolgo io si mettono tutti il loro Quindi, perché gli vanno No, mi cazzo Come va? Ma vai Aiuto mamma Professore, posso andare in bagno? Occupato? No, mi cazzo